Seduta straordinaria per il prossimo Consiglio Comunale a Disernia, convocato lunedì 17 maggio alle ore 16. Una riunione richiesta in presenza all'Auditorium Unità ed Italia che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Lombardozzi, ha concesso dopo il susseguirsi di richieste degli 11 consiglieri di opposizione, sfociate in un'istanza formale del 27 aprile scorso. In un primo momento, infatti, il Presidente Lombardozzi aveva invitato i proponenti a riformulare la richiesta, in quanto gli argomenti all'ordine del giorno sarebbero stati formulati in maniera troppo generica e privi delle proposte corrispondenti. Ma i consiglieri di Popolari per l'Italia hanno incalzato chiedendo al Presidente di far riunire subito l'assise nei tempi previsti dalla legge, al costo di far intervenire il prefetto. Un clima infuocato da campagna elettorale che ha spinto Lombardozzi a convocare il Consiglio con un unico punto all'ordine del giorno, richiesta di convocazione del Consiglio Comunale presentata in data 27 aprile, in cui si discuterà della destinazione dello spazio comunale ex lavatoio, del recupero e del risanamento delle aree in località Le Piane, destinate a Terminal, e ancora, tra gli altri, il destino di Palazzo Orlando e della piscina comunale. Il Consiglio dunque è fissato, ma non è da escludere, in mancanza dei documenti, che possa essere presentata una pregiudiziale, in quanto i componenti dell'assise potrebbero non essere stati tempestivamente informati delle proposte di deliberazione, e dunque che non si discuta affatto. Intanto il gruppo dei Popolari, sul piede di guerra, ha già annunciato che non parteciperà alla riunione fissata per lunedì 17 maggio. Vittoria Succi, Enzo Di Luozzo e Giovanni De Marco contestano il fatto che mancano all'ordine del giorno le richieste avanzate dagli 11 esponenti di minoranza.